Amici Trebimeteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsori per la giornata di mercoledì, primo giorno dell'anno. Intanto gli auguri da parte mia di tutto lo staff di Trebimeteo per uno splendido 2020. Situazione meteorologica abbastanza tranquilla, con l'alta pressione che dall'Europa centrale si spinge anche verso il Mediterraneo e l'Italia. Se controlliamo infatti la nuvolosità prevista sul nostro paese, ben poco da segnalare, qualche nuvolamento sulle regioni tirreniche, ma nubi di passaggio, davvero nulla di che. E anche come precipitazioni non capiterà nulla di particolare, quindi assenza di precipitazioni, però attenzione a nebbie foschie perché al nord è presente parecchia umidità. Quindi in definitiva ci attendono prima dell'anno, all'insegna sostanzialmente del bel tempo. Qualche nuvole, dicevamo, tra Liguria e Toscana, insomma sul versante tirrenico, ma nubi di poco conto. Qualche nebbia sulla bassa Valpadana, soprattutto tra note le prime ore del mattino. Per il resto situazione tranquilla e con temperature tra l'altro al centro-sud che torneranno a essere anche relativamente miti. Con questo è tutto, per sapere cosa capiterà nel dettaglio da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.